Allora, ciao a tutte, mi presento, sono Beatrice e sono una psicologa psicoterapeuta e mi occupo di donne che hanno l'ansia. Conosco Lisa da un sacco di tempo, nel senso che è un bel po' di tempo che la seguo e che ho avuto modo di fare con lei un percorso e ho seguito quello che lei ha proposto, cioè il corso delle 5 leve, 5 fultri di un'attività che funziona e secondo me è stato molto molto utile. Ora vi spiego il perché. Ci sono tre cose fondamentali secondo me da dire. La prima è che questo corso è un corso che mette in scena quelli che sono i punti fondamentali per avviare appunto un'attività di business, qualunque essa sia. Punto 2, il fatto che fa leva su quella che è la particolarità secondo me di Lisa e cioè il fatto di rendere qualsiasi servizio personalizzabile. Quindi io non mi sento mai incastrata all'interno di un metodo ma so che ho, come dire, un margine di azione molto ampio. È chiaro che ci sono delle, come dire, condiziosine qua nonna. Cioè se io voglio effettivamente utilizzare Instagram come canale per promuovermi, è chiaro che devo sicuramente utilizzare i contenuti, dovrò fare dei reels e via dicendo. Però, quindi, quelli sono, come dire, gli aspetti fondamentali, imprescindibili rispetto alla scelta che sto facendo per promuovermi. Detto questo, però, non devo necessariamente eseguire un metodo che non mi torna. Tre, quello che a me è servito fare questo corso è avere, come dire, un recap di quelli che sono, appunto, i pilastri fondanti di un'attività di business e ne sono uscita con la consapevolezza di dover rispolverare la nicchia. Io non sento di dover costruire effettivamente qualcosa ex novo, però sento di poter migliorare, ottimizzare quello che già ho sotto, diciamo, questa nuova luce che mi ha dato Elisa. Sicuramente è un corso che consiglio per un semplice fatto, perché io ne ho fatti tanti in passato. A volte sono stati fuffa, fondamentalmente, e mi rendo conto che se avessi fatto questo tipo di corso due, tre anni fa, probabilmente mi sarei evitata tantissimi giri inutili, perché era esattamente quello di cui mi serviva. Cioè, a me serviva questo. Serviva qualcuno che mi desse dei punti di riferimento a cui aggrapparmi, ok, però poi, in base a quello, mi seguisse nella personalizzazione di quello che voleva essere il mio metodo e che mi seguisse anche nella costruzione di questi pilastri. Penso che qualsiasi professionista, al di là del lavoro che fa, ma che ha questo come obiettivo, cioè quello di utilizzare i social e di creare su un'attività di business fatta in questa modalità, ha bisogno di questo. Cioè, fatto questo è come dire, ho messo i pavimenti della mia casa, ho fatto i muri portanti, ho tutto quello che mi serve, e adesso da qui posso personalizzare e capire come mi piace avere casa. Quindi, io lo consiglio assolutamente. Grazie. Grazie.